Scrivi, figlia mia. Due sono le strade che conducono al cielo. Quella dell'innocenza e quella della penitenza. L'innocenza è per se stessa la più semplice e la più bella. Su questa strada camminano molti bambini e coloro che li imitano nell'infanzia spirituale, fatta di semplicità, di abbandono e di confidenza. Solo con un aiuto straordinario da parte di Dio è possibile conservare l'innocenza, che rapisce il mio cuore, la fa oggetto delle mie tenerezze e premure più che materne e forma la mia delizia. Io volgo agli innocenti il mio sguardo pieno di bontà e adopero ogni mezzo per preservarli dal male. Se essi corrispondono alle mie grazie, fiorisce la santità più semplice e più grande al tempo stesso. Per essi la lotta contro il male è costante. Però per la loro vigilanza su se stessi, per la loro umiltà, che li rende piccoli agli occhi degli uomini e ai loro, io li preservo dalle grandi occasioni di peccare. Sono come quei fiorellini di campo, che nella loro semplicità onorano Dio e lo lodano e a cui nessuno dà tanto valore, perché non hanno l'apparenza dei bei fiori dei giardini. Io amo gli innocenti che mai macchiarono il loro cuore con un peccato mortale. Hanno cosparso la loro vita di bene e di amore, e hanno fatto della loro vita un'offerta per tutti. Anche se non le incontri sovente per la strada, queste anime sono luce che illuminano il cammino di molti. La loro parola sa di dolcezza e di bontà, poiché Dio, che abita in loro, dona alla loro persona un'impronta divina. Il loro sorriso è un messaggio d'amore. Le loro lacrime sono di comprensione ed affetto, perché i dolori degli altri diventano loro. Le loro parole non suonano rimprovero aspro ma ammonimento soave, come la voce di Dio che parla al cuore senza costringere, senza fare irruzione. Passano queste anime innocenti nella vita, e il mondo le chiama insignificanti. Nessuno si accorge della loro grandezza e del bene che fanno all'umanità. Pagano per i peccatori a insaputa di questi. Ricorda che gli innocenti sono in grado di pagare per i peccatori. Uno di essi paga per mille di questi. Arrivano al cielo carichi di meriti, poiché tutta la loro vita è stata un continuo meritare per la vita eterna. Ma ti ho detto. Pochi camminano per questa strada. Quella più comune è la strada della penitenza. Dio non abbandona l'uomo dopo il suo peccato, ma sempre lo rialza, lo aiuta, lo conforta e lo perdona. Basta uno sguardo al cielo e una invocazione, e ritorna la salvezza. Povere anime mie, appesantite dal peccato e dalle passioni. Anime che andate in cerca della felicità dove non la potrete trovare. Anime che formavate la delizia di Dio e degli angeli, abbruttite dalla colpa. Rialzatevi. Venite, figli miei. Comprati con il mio sangue, venite. Imparate da me, che essendomi caricato dei vostri peccati ne ho dovuto fare la penitenza. Venite e vi insegnerò come dovrete e potrete purificare le vostre anime nell'amore e nel sacrificio per riconquistare lo splendore perduto. Venite, figli. Io mi son fatto uno di voi per riportarvi al Padre. Vi metterò il vestito nuziale, quello della grazia, perché possiate partecipare al banchetto eterno della gloria. Deponete le vostre gramaglie. Guardate la luce che vi viene dall'alto. Piangete i vostri peccati. Io dimenticherò i vostri giorni trascorsi lontano da me. Vi abbraccerò e non vi abbandonerò. Prendete la vostra croce e seguitemi. Per chi ha peccato non vi è altro modo di salvarsi che la penitenza. Sia vostra penitenza la croce quotidiana e la rinuncia a tutto ciò che è male. Pochi sono i giorni che voi vivete qua giù. E come potete pensare di vivere in divertimenti e peccati, mentre di questo breve soggiorno nella vita terrena sarete giudicati e forse condannati. Figli miei, scuotetevi. Si abbassino i colli e si riempiano le valli. Vi diceva il mio precursore e nella pratica della carità e della penitenza preparatevi alla mia venuta. Io verrò sulle nubi del cielo e i miei eletti porteranno una croce. Gli innocenti sul cuore. I penitenti sulle spalle. La croce sarà la vostra salvezza. Anime. Ascoltatemi. Piangete lacrime di dolore per i vostri peccati. Piangete lacrime di sangue nei vostri cuori. Sottoponendo i vostri corpi ai sacrifici che il vostro dovere vi impone. Poiché il tempo della misericordia passa presto e poi viene quello della giustizia. Togliete dai vostri cuori ogni sorta di cattiveria. Riempiteli d'amore. L'amore vince l'odio. L'amore è fonte di bene. L'odio vi rende collaboratori di Satana. Amate Dio. Amatevi tutti e nell'amore vicendevole esercitate la penitenza che vi salverà.